Come previsto è arrivata una precisazione ed una considerazione, così la definita, di Roberto Ruta sulla guerra in atto nel PD e in particolare sulla sanità, toni cauti ma determinati del senatore che, dopo aver ribadito la validità della sua proposta sull'immediata istituzione dell'azienda ospedaliera universitaria esplicitamente prevista dal decreto Balduzzi entro la data della sua pubblicazione, ha sconfessato in qualche modo Paolo Frattura. Il presidente ne ha preso contezza, ha dichiarato Ruta, perché il 17 marzo rispondendo alla mia lettera scrisse «Leggiamo la tua proposta e rilanciamo l'idea di creare un'azienda ospedaliera integrata con la facoltà di medicina. Se la volontà espressa il 17 marzo dal governatore resta valida, ha aggiunto Ruta, andiamo avanti uniti per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e accelerare la sottoscrizione del protocollo d'intesa Regione-Università per evitare la mannaia sul nostro sistema sanitario». Resta il fatto però che Paolo Frattura, nei giorni scorsi, aveva escluso la possibilità di creare l'azienda universitaria ospedaliera. Ruta comunque ha ricordato la totale disponibilità del Rettore Palmieri e la necessità di fare presto, ossia prima della pubblicazione delle norme attuative del decreto Balduzzi, per evitare esclusioni previste dalle norme dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto. Il senatore ha poi ribadito la necessità di salvaguardare il DEA di secondo livello all'ospedale di Campobasso attraverso l'intesa sull'azienda ospedaliera universitaria e, di conseguenza, di salvaguardare anche gli ospedali di Isernia e di Termoli. Roberto Ruta, infine, ha sollecitato la riorganizzazione complessiva dell'offerta sanitaria, assegnando alle strutture pubbliche almeno il 75% del totale e redistribuendo con la stessa percentuale i posti letto per la riabilitazione, come già concordato con il Governatore. Se così sarà, ha concluso Ruta, raccolgo l'appello all'unità perché la tutela della salute dei molisani deve trovarsi uniti. Dunque la tarantella epistolare nel PD continua, ma le soluzioni non arrivano.